Eccoci ciao a tutti, prima che poi mi prendete in giro per tutto il video, è semplice aria condizionata, vedete questo rumorino, che poi siete tremendi, mi prendete in giro, la goccia fa traboccare il vaso, la goccia eccetera eccetera eccetera, ve l'ho fatto vedere così siamo a posto. Allora ragazzi, la nostra storia, la nostra storia, ma voi ve lo ricordate, ve la ricordate l'ultima volta che abbiamo giocato a Reggio Emilia, vecchio stadio Mirabello, e la prima volta che abbiamo giocato allo stadio Giglio, il nuovo stadio, perché prima si chiamava Giglio, adesso Mapei, ma prima Giglio, ve lo ricordate? Allora, l'ultima volta che abbiamo giocato al Mirabello di Reggio Emilia era il 2 gennaio 1994, pensate, nel Milan c'era anche Paolo Futre, vincemmo il 2 gennaio con un gol al minuto 2 di Marcel Desailly sotto la traversa. Reggiana Milan 0 a 1, era la stessa giornata nella quale a San Siro, ricordo il buon presidente Pellegrini che venne preso di mira per questo, il presidente Pellegrini e la D dell'epoca, l'amministratore delegato interista dell'epoca Piero Boschi, erano rimasti via per le vacanze di Natale e fine anno, non c'era l'alta dirigente da Nerazzur a San Siro e l'Inter persi in casa 2 a 1 con l'Atalanta. L'Atalanta allenata da Andrea Valdinoci, coniato di Areido Braida, grande milanista che fece una grande vittoria, fece anche una grande esultanza, ci fu un litigio con Zenga che probabilmente aveva percepito il milanismo di Andrea. Ecco, quella è l'ultima volta che abbiamo giocato allo stadio Mirabello, campionato 93-94, 2 gennaio 94. La prima volta invece che giochiamo allo stadio Giglio, il nuovo stadio di Reggio Emilia, che adesso si chiama Mapei, ma l'ho già detto, lo ripeto, prima si chiamava Giglio, è nell'aprile dell'anno dopo, 1995. Io ricordo ancora quel giorno, io avevo la diretta a Tele Lombardia, stavo andando a lavoro e facevo sempre la strada che mi faceva passare da Via Turati. Ricordo ancora quel mattino Adriano Gagliani e Areido Braida che escono dalla sede del Milan per andare al Giglio a vedere Reggiana Milan. E io pensai fra me e me, ma guarda, insomma, anche perché era fine campionato 94-95, noi non avevamo più niente da chiedere al campionato, eravamo già concentrati sulla finale di Coppa dei Campioni, ahimè, di Vienna contro l'Ajax. Però era abbastanza presto anche, io ho sempre amato andare al lavoro presto, e ho detto, beh, sono i dirigenti del Milan, anche se il campionato per noi è sostanzialmente finito, però sono sul pezzo fin da mattino presto per andare a Reggio Emilia. E in quella partita, Reggiana Milan, di quel giorno, aprile 95, ci fu uno dei più bei gol di Dejan Savicevic, in maglia rossonera, era la maglia bianca, la maglia da trasferta con la striscia orizzontale rossonera del 94-95. Quel colpo da biliardo che entra piano piano, ve lo ricordate? Ecco, quello è il giorno, quella è la prima volta che giochiamo allo Stadio Giglio, un giorno geniale. Poi la Reggiana retrocede, torna in Serie A nella stagione 96-97, e andiamo, mentre nel 94-95 l'allenatore del Milan, a momento del gol del Genio, era Fabio Capello, nel 96-97, quando andiamo a giocare a dicembre Reggiana Milan, l'allenatore del Milan è già Arrigo Sacchi. Vinciamo 3-0, ricordo un gran gol di Demetro Albertini, sembrava che il Milan si fosse ripreso dopo l'eliminazione contro Rosenborg, dopo il passaggio da Tabaretz a Sacchi, invece dopo quella vittoria di Reggio Emilia ci fu la sconfitta in casa con il Parma, con quel colpo di testa sotto la traversa di Mario Stanic. E quindi questa è la storia del Milan allo Stadio Giglio contro la Reggiana. Poi vicissitudini, crisi societaria reggiana, stadio praticamente abbandonato, l'ascesa del Sassuolo, che lascia lo Stadio Ricci di Sassuolo per andare a rilevare il Giglio di Reggio Emilia, e diventa Stadio Mappei. La prima volta che noi abbiamo fatto diversi trofei team allo Stadio Mappei, uno l'abbiamo anche vinto, estivi, però, insomma, più avanti. Prima c'è questa partita del gennaio 2014. Io ricordo quella partita del gennaio 2014, Sassuolo Milan, ricordo che Di Francesco era in grave difficoltà, era una panchina fra allenatori in difficoltà, tutta diversa da Dionisi Pioli di oggi, che sono saldissimi e serenissimi, e entrambi all'avanguardia. Di Francesco rischiava, e Allegri la settimana prima aveva detto, prima di Milan-Atalanta, l'anno prossimo non sarò più la natura del Milan. Quindi situazioni in grande evoluzione. Io feci un errore, che non farò evidentemente domenica prossima, arrivando allo Stadio di Reggio Emilia, cosa che non farò domenica prossima, lo dico subito, ebbi a che dire con... Intanto quel giorno il Milan aveva vinto il derby primavera, con Inzaghi in panchina. Ha vinto il derby primavera, vinto il derby primavera, visto in tv il derby primavera, partì per Reggio Emilia. Ebbi a che dire con un responsabile della comunicazione dell'immagine del Sassuolo, e qualcosa mi diceva in quel momento che me ne sarei pentito amaramente, ma non riuscì a frenarmi, nel pre-partita, e poi sapete com'è andata. 2-0 Milan, 4-2, 4-3, 4-4 sfiorato, e poi... Ecco, io ricordo quella lì come una delle notti più brutte della mia vita. Una notte veramente acres, gradevole, sentivo che nel mio Milan si agitavano delle robe strane, delle pulsioni strane. la nebbia che non c'era uscendo da quello stadio per arrivare alla macchina. Avevo capito che Allegri sarebbe stato esonerato dall'espressione che aveva Simone Folletti, il preparatore atletico, all'uscita, avevamo la postazione interviste appena all'uscita, all'ospediatore del Milan, all'uscita di Simone Folletti, avevo capito che era finito. e poi tutte le voci della notte, arriva questo, arriva quell'altro, arriva lui, arriva no, arriva l'altro. Brutta e cupa quella notte, dal punto di vista del risultato, dal punto di vista interno, dal punto di vista meteorologico, una delle notti più brutte della mia vita. Quella nebbia dallo stadio alla macchina, pensate, non l'ho ancora metabolizzata, tant'è che io a quello stadio non ci rimetterò più piede nella vita. Però, insomma, poi devo dire che Reggio Emilia, ecco, io una cosa ho nel cuore di Reggio Emilia. Adesso parliamo di una vittoria, campionato 2016-2017, rigore di Bacca e l'occhio di Ignazio Abata. Fine partita, lotta dura, Sassuolo-Milan, rivalità, eccetera, eccetera, perché l'anno prima quelli del Sassuolo erano andati a vedere la finale Coppa Italia-Milan-Juventus e con la vittoria della Juventus avevano sbandierato la bandiera del Sassuolo all'Olimpico. Insomma, c'era un po' di questo clima qua. E Ignazio Abate lottava, su una palla rimessa laterale gli scappa la contrasto, la palla gli schizza sull'occhio, sembrava una cosa normale, invece Ignazio ha sofferto tantissimo per quell'occhio. Però ha giocato anche gli ultimi minuti di recupero e lo ringrazierò per sempre. Quell'occhio c'era un grumo non semplice, ha dovuto fare tanto cortisone, tanto dolore, tante cose, Ignazio però stava per dare un occhio e ha voluto continuare la partita, ha voluto finire la partita per la vittoria del Milan a Sassuolo. Ricordo anche Gattuso vincere a Sassuolo. Era iniziato così così, il campionato, avevamo perso Napoli, avevamo pareggiato Empoli, andavamo a Sassuolo, fuori tutti gli attaccanti, fuori Guain, fuori Cutrone, per infortunio, gioca Castieco, falso 9. Gattuso iniziava già a giocarsi un po' della sua reputazione, vinciamo 4-1, col Sassuolo che aveva fatto riposare i big nel turno infrasettimanale, prima di Sassuolo-Milan, perché ci teneva a giocare, a fare una grande partita contro il Milan. Poi c'era Boateng con i suoi propositi di rivincita, eccetera, eccetera, eccetera. E finì 4-1 per il Milan, con gola anche di Castieco, falso 9, e fu molto contento per lì. Queste un po' le storie di Sassuolo-Milan. Ciao ragazzi, a domani, ciao a tutti.